Per la ventiquattresima giornata del campionato promozione Girone C 2016-2017 l'Atletico Etruria ospita al comunale di Acciaiolo la Geotermica. Padroni di casa in tenuta rossa che schierano Porciatti, Mencari, Filippelli, Rispoli, Giari, Ceccarelli, Diuseppe, Cammellini, Talini, Tempini e Semboloni. Ospiti che rispondono con Mazziotta, Landi, Baldini, Capanni, Delagnello, Barbafiera, Borselli, Balleri, Saccardi, Nuzzi e Grandoli. Dopo una lunga fase di studio al 37esimo arriva il primo sussulto dell'incontro. Di Giuseppe mette in mezzo un pallone che la difesa della Geotermica non spazza via come dovrebbe e la sfera finisce a Cammellini che prova in diagonale la cui traiettoria finisce di poco a lato. Un minuto dopo è la Geotermica a proporsi in avanti. Balleri tene palla e scarica per un compagno che crossa, Giari intercetta di testa, Borselli riceve la sfera ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 43esimo minuto Letruria va vicino al gol del vantaggio. Semboloni lancia sulla fascia destra Mencari che serve Di Giuseppe, il numero 7 si libera, vero e serve Talini in mezzo all'area che dopo aver difeso il pallone si coordina ma calcia di poco al lato della porta di Mazziotta. Nella ripresa l'Atletico aumenta i giri del motore. Al 72esimo una precisa punizione di Telloli aggira la barriera prima di stamparsi sul palo e venire liberata dalla difesa. L'assalto dell'Etruria prosegue anche nei minuti successivi. Un cross di Mencari da destra viene rispinto, diventa preda di Semboloni che allarga sull'altra fascia in direzione di Telloli il quale punta l'avversario e entra in area ma da posizione di filata non trova lo specchio della porta. Al 78esimo ci prova la Geotermica a sbloccare il risultato. Uno scambio nel corto tra Bolzelli e Saccardi libera il numero 9 che non trova spazio e scarica per Grandoli la sua conclusione centrale e non coglie in preparato Porciatti. Nei minuti finali l'Atletico Etruria esprime il proprio massimo sforzo. Rispoli va in percussione centrale, serve sulla destra Telloli che vicino al lato corto della rigore spara un diagonale ben bloccato da Mazziotta. All'84esimo minuto Di Erasmo dalla fascia sinistra mette un cross pericoloso, Baldini fallisce la liberazione di testa, Giuseppe cattura la sfera, scarica limite per Rispoli che dopo aver preso la mira spedisce un preciso retetto dal fil di palo ma Mazziotta ancora una volta non si fa sorprendere e sventa il pericolo. Al 94esimo minuto si recide la partita. Un calcio d'angolo dell'Etruria trova il colpo di testa che colpisce il palo di Erasmo ricoprire in balzo e spinge la palla in rete per l'1-0 dei padroni di casa. Terza settimana consecutiva in gol per Di Erasmo che regala così tre punti importanti alla sua squadra. Con questo successo fondamentale l'Atletico Etruria sale a quota 36 punti. Un bottino di tutto rispetto che avvicina sensibilmente i bianco-azzurri all'obiettivo stagionale della salvezza. Con sei giornate ancora da disputare l'Atletico può guardare la fine di stagione con maggiore serenità e tranquillità. Settimana prossima trasferta in terra livornese contro Armando Picchi. Terza forza del torneo, radice da due sconfitte in fila contro le cocapoliste del campionato San Mignato e Fucecchio.